Cari amici, nuovo aggiornamento di City Report, siamo a venerdì, venerdì di Pasqua, e vogliamo dirvi un paio di cose. Sta andando avanti la nostra sensibilizzazione verso la questione di via Tofano 5, abbiamo sentito i sindacati, abbiamo sentito un po' di persone, settimana prossima vi manderemo il servizio completo di tutte le interviste e le delucidazioni del caso di quello che è successo. Però per darvi una notizia positiva, so che è già stata pubblicata su Facebook da Fabio Galesi, assessore del municipio 8, è vero che c'è una guardia e che la proprietà di via Montefeltro 8, quindi nel municipio 8, quella situazione di campeggi rom, di persone che facevano di tutto all'interno di quella situazione, immondizia, degrado eccetera, pare essere stata risolta per il semplice fatto che la proprietà è stata venduta. Da quanto sappiamo noi che abbiamo percepito essere Easy Box, comunque quello che sia, ha già dentro un vigilante che sta controllando, è intervenuta la polizia locale in Borghese Non per allontanare le persone, tra cui quel signore famoso che vi ricorderete dal nostro servizio che dichiarava che uccidere la donna se ti tradisce o che il coronavirus era tutta una balla, insomma è stato allontanato da lì, che ci risulti c'è solo una ragazza rom che va a recuperare i frigoriferi, i microonde, insomma tutte le robe che avevano piazzato lì dentro attaccate alla corrente pubblica e speriamo in un buon esito di questa cosa. Altra cosa che vi vogliamo segnalare è che prossimamente avremo notizie molto interessanti anche per quanto riguarda Ita al mondo di via Brunetti, pare che finalmente la proprietà si sia decisa a muovere e a dare un senso a quell'aria che rimane abbandonata da anni nel degrado, nel caos, i rave eccetera che tutti ben sapete, vi aggiorneremo prossimamente poi un'altra situazione, stiamo continuando a seguire la situazione degli autotrasportatori quelli che vi portano a casa le cose da mangiare o comunque le portano nei supermercati con i loro bilici che hanno un problema con autogrill, perché? Perché non li fa entrare se non hanno la mascherina, peccato che di mascherina gli autisti ne abbiano poche e i viaggi da 200-300 km magari se la cambiano si rompe eccetera, arrivano poi davanti all'autogrill per usufruire dei servizi igienici e non possono entrare, perché? Perché non hanno la mascherina noi ne abbiamo fornita qualcuno, insieme a noi ci sono state altre persone che hanno dato una mano e ne hanno consegnata qualcuno, ma credo che la palla passi ad autogrill che deve comunque come introita i soldi dei caffè, delle consumazioni eccetera, fornire una mascherina momentanea soprattutto agli operatori che ci stanno dando una mano in questa crisi, quelli che riforniscono i nostri supermercati. Un'altra cosa ancora, siamo stati in piazza d'armi, stiamo montando il servizio, stiamo facendo le interviste a chi le dobbiamo fare, fatto sta che via della Rover e che quella via laterale dove siamo entrati diverse volte anche quando c'è stato lo sgombero, è piena di rifiuti di ogni tipo, le mura perimetrali sono state buttate giù, pare che tutto questo cantiere sia fermo per mancanza di una licenza edilizia e non ci sia nessun guardiano come era ai vecchi tempi che non parliamo di anni fa, sei mesi fa, dopo che erano stati fatti gli sgomberi erano presenti delle pattuglie di sorveglianti privati, metronote, chiamateli come volete, che controllavano la situazione ora non è più così e infatti la via è una schifezza unica. Fra l'altro poi questa caserma ha un perimetrale a fianco ai famosi orti di Baggio che vi abbiamo fatto vedere anche quelli sono una tendopoli costante a parte di tendopoli di rom comunque eccetera ma che sono anche comunque una situazione di degrado incredibile dovuta anche alle permanenze fisse di persone che con la storia dell'orticello si sono costruiti appartamenteni, villette eccetera che molto spesso affittano, anche questo potete vederlo nelle nostre precedenti puntate di City Report. Chiudo qui insomma per volermi fermare qui, se no vi dovrei parlare anche delle case popolari, le occupazioni, i bar abusivi che purtroppo stanno catalizzando tutte quelle persone che non vengono fermate o comunque non se ne fregano della quarantena, cioè quindi tutti questi extracomunitari o comunque persone che vivono di espedienti e che addirittura hanno creato in alcune strutture di queste delle aree di socializzazione, dei bar dove guadagnano soldi vendendo birre con le borse frigo, le bibite con le borse frigo e se non ultima anche il soddisfacimento dei bisogni della droga perché la droga sta continuando a circolare, i tossicodipendenti ci sono ancora e anzi stanno facendo scorte per cui anche lì abbiamo da farvi vedere determinate cose che riguardano anche i runner, quelli che vengono in giro che sono soprattutto molto scuri, subsahariani che vengono a portarvi le cibari a casa che fanno il secondo lavoro in questo periodo e capite a me che lavoro fanno, con delle mazzette di soldi spesse cos'è, abbiamo ripreso anche quella, abbiamo visto anche quella, insomma di tutto si può dire di questo periodo di quarantena a meno che Milano si sia fermata, si è fermata forse la Milano regolare, la Milano di chi lavora, di chi produce eccetera, l'illegalità, la criminalità eccetera, non è ferma per niente, credetemi, non è ferma per niente. Poi un'altra comunicazione per chiudere, vi auguro buona Pasqua chiaramente a tutti quanti, questa settimana il servizio che doveva andare in onda su lettori di via Tofano verrà spostato alla settimana prossima non perché non sia pronto ma perché stiamo sentendo diverse altre voci e volevamo darvi un servizio più completo anche per quanto riguarda le informazioni e quello che sta accadendo, gli atti ufficiali eccetera, c'è parecchia carne sul fuoco. Per oggi allora vi saluto, vi auguro buona Pasqua, ci vediamo settimana prossima, un grande abbraccio a tutti voi, vi voglio bene, Tuglio Trapasso, City Report. Andiamo avanti.